L'assessore Alonjine, un assessore al verde della città di Palermo, aveva anticipato durante la seduta di consiglio dell'ottava circoscrizione queste nuove assunzioni di 46 autisti, proprio per estendere la raccolta porta a porta a tutta la città. Sarà un processo graduale che durerà del tempo, dovrebbe iniziare i primi di aprile, il 4 indicativamente. Iniziate la prima fase dei lavori in Via Libertà, vorremmo sapere i tempi previsti e se ci saranno dei futuri lavori di ripristino nella nostra Palermo. Sì, finalmente i marciapiedi di Via Libertà saranno interessati da lavori di manutenzione e riqualificazione e probabilmente dureranno tre mesi, almeno questo è quello che si ricava dall'ordinanza comunale che ha dato in affidamento la gara d'appalto all'azienda. Sono previste più fasi proprio per consentire alla viabilità di proseguire la percorrenza di Via Libertà. Oltre a Via Libertà, come i cittadini sapranno, sono state già ripristinate Via Volturno, Via Wagner e Via Villermosa, che erano particolarmente dissestate proprio perché percorse da mezzi pesanti. Ora, il prossimo intervento importante che interesserà la città di Palermo, ma in particolar modo l'ottava circoscrizione, sarà quella riguardante il tratto di Via Crispi che collega via il porto all'autostrada, proprio perché ad alta percorrenza da parte di mezzi pesanti. Quindi c'è l'esigenza di intervenire prontamente. Grazie.